Ehi la ciurma, qui è Mazzetess e eccoci per un nuovo video di Mindtest Nello scorso episodio, chi ha visto lo scorso episodio, si ricorderà che abbiamo costruito questo rifugio antiatomico No, è semplicemente un deposito per la cobblestone Chi non ha visto lo scorso episodio, se lo guardi perché è divertentissimo No, è come tutti gli altri, però guardatelo tu chi comunque che stai guardando questo video Se non l'hai ancora fatto, guardalo Oggi andremo a continuare la nostra opera costruendo una casetta per la dirt Detta anche terra o terriccio o volgare terreno che sta per terra e esce fuori da ogni parte appalate Allora, la mia idea è sempre di fare, come per la cobblestone, una cosa un pochettino nascosta Della serie... oh, qua succede la gravel Ah, forse l'avevo già incontrata tempo fa Una stradina di gravel, che bella stradina di gravel A chi non piacerebbe avere una stradina di gravel? A nessuno piacciono le stradine di gravel Vabbè Quindi direi di fare una piccola grotta Nel senso... no, non una grotta Nel senso... come se fosse... avete presente le capanne degli hobbit? No? Vabbè, allora vi arrangiate No, nel senso... quelle piccole costruzioni scavate nella... nella parete delle colline In cui ci sono... cioè c'è il soffitto basso, tipo queste cose qua Ecco, allora innanzitutto lasciamo il soffitto basso Perché è una bella cosa avere il soffitto basso in queste specie di... Di cunicoli strani, ecco Poi vorrei... vorrei... vorrei illuminare l'anima dimmenso Ok, non aveva senso e non era neanche una canzone che io abbia mai sentito Però, comunque, allora... vorrei fare tipo una... una zona tutta di... di dirt E mettere delle ceste Io farei tipo... tre ceste di copper qua in fondo e basta Perché... come abbiamo visto nell'altro deposito là C'è tantissimo spazio in una cesta di copper Quindi... o potrei mettere tre... no, beh Fare due... tre e due Nel senso cinque chest Un, due, un, un, due Ma sì, perché no? Dai, facciamo con lo stesso stile dell'altro, insomma Solo che in dimensione molto più piccola Poi, come là ho sostituito tutto con la stone Qua andrei a sostituire tutto con la... con la dirt Però mettendo... facendo magari arrivare la luce E quindi... facendo... oh che bel fiorellino Ma che bel fiorellino Facendo arrivare la luce e quindi facendo crescere l'erba Perché l'erba è bella Cioè è molto più carino avere l'erba qua dentro che non... un niente schifoso Però non so se la... può venire... erba... essendo sotto terra Sapete che non ho proprio idea È venuta, è venuta l'erba Quindi può L'avete vista anche voi? È apparsa proprio in diretta Se non l'avete vista andate a rivedere un attimo dietro il video Comunque... è apparsa proprio in diretta Allora, detto questo Andremo a costruire queste cinque chest di... Copper Come al solito per fare cinque chest abbiamo bisogno di dieci pezzi di legno Li disporremo così Così E così Cinque chest Ma tra l'altro ne avevo già di chest pronti Vabbè Vabbè Poi ho già del copper pronto quindi Però ho bisogno di... Per cinque chest ho bisogno di ottanta di copper, sì Quindi quarantanove, cinquanta e... Altri trenta No ma cosa sto dicendo? Quaranta ho bisogno per cinque chest Ok E quaranta di ferro Quindi ce l'ho già pronti Perfetto Non è niente male questa cosa Detto questo Allora usciamo dalla chest Andiamo a questa chest Prima si fanno quelle di ferro Se non ricordo male No, infatti non ricordavo male Mi ricordo bene Ho imparato bene dal vecchio episodio Tra l'altro Mentre costruiamo questo Volevo dirvi che durante le vacanze di Natale Come tutte le persone normali Sarò in vacanza Ma nel senso proprio che andrò anche in vacanza E quindi potrò... Non potrò né registrare video Né caricare video In quel momento E principalmente sarà la settimana di Natale Che non potrò caricare e registrare video Quindi molto probabilmente Prima di partire Farò dei video E li caricherò In quel momento Cioè li caricherò uno appena prima di partire E l'altro appena tornato Insomma Quindi questo dovrebbe essere il video Che caricherò Appena prima di partire Quindi suppongo La settimana Quella del 16 Mentre invece Ci sarà un altro video Che registrerò molto probabilmente Appena dopo questo Che sarà il video Della settimana Appena Dopo Appena dopo Natale Insomma Quindi del 30 Suppongo Potrebbero esserci delle variazioni Perché appunto Torno Ma non so esattamente Quando torno E Si vedrà un attimo Allora io ho cercato di fare un po' di video Per fare Per darvi qualcosa da visualizzare Nelle vacanze Visto che comunque Se per caso non andate in vacanza O se non avete niente di Particolare da fare Oltre ai compiti di scuola Naturalmente Suppongo che Vi farà piacere vedere qualche Piccolo videozzo E allora io Faccio qualche videozzo adesso Appena prima delle vacanze E poi ve li caricherò Detto questo Siamo riusciti a completare Il nostro bello obiettivo Qua Di Fare le casette Ah Mettiamo qua 99 Vai Perfetto Qua La luce c'è La Adesso arriverà Vediamo un po' da lontano Come si vede Ma da lontano Sembra abbastanza Invisibile A meno che uno Ci passi davanti Allora vede la La cesta E dice Ah ma guarda C'è un ripostiglio segreto Dimaz e Tess Per forza Quindi Non è male Non mi dispiace Proprio per niente Come anche quest'altro qua Che se uno dice Ah Per sbaglio Ci casca No non può cascarci Detto questo La voglia di Fare Un Deposito per la sabbia È Grande Però Non so Detto tra noi Non so se fare Un deposito per la sabbia O un deposito Per la gravel Perché alla fine Sono materiali Che di solito Non sono presenti In grandissime quantità Quindi suppongo Che Non ci sia Troppo bisogno Di un Di un deposito E penso Infatti Che per ora Li custodirò qua Lascerò lo spazio qua Ma se in futuro Faremo tipo Una piccola piramide In quella zona Sì una piramide Ci sta bene Per conservare Dei materiali Legati comunque Al deserto Qua Sono indeciso Se fare una stradina Poi che porta In quella direzione Oppure no Boh Ci penseremo Comunque Detto questo Sono passati appena 9 minuti e 40 secondi Dall'inizio del video No non dall'inizio Del vostro video Avete ragione Dall'inizio della mia Registrazione Perché nel video C'è anche l'intro Detto questo Io passerei 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 A fare Il prossimo progetto Che è Zaini Qua Tempo fa Prima di Tra il Non questo video Quello ancora prima E due video fa Avevo raccolto Un sacco di legno Per fare appunto Gli zaini Perché gli zaini Sono molto comodi Ma richiedono Parecchio legno Allora innanzitutto Gli zaini Come si chiamano Non mi ricordo Come si chiamano Gli zaini Si chiamano tipo Bag Vediamo Si ok C'è una small bag Un medium bag E un large bag Che come Lascia intuire il nome Sono di dimensioni Differenti La small ha poco spazio Il medium ha Uno spazio medio E la large Ha uno spazio largo E abbiamo Quattro spazi Per tenere degli zaini Che possono essere appunto Di queste tre Dimensioni La dimensione La capienza massima Insomma Degli zaini portati E avere Quattro large bag E io allora Ho deciso Di raccogliere legno Appunto Per fare Quattro large bag Il fatto è che Per fare Una small bag Dici Vabbè E' come un cartello Girato al contrario Alla fin fine Uno stecchetto E sei wooden planks Che non è troppo caro Per fare una medium bag Hai bisogno di uno stecchetto E sei small bag Che vuol dire Sei per sei Wooden planks Per fare una large bag Come avrete intuito Ci vogliono Sei medium bag Ciò vuol dire Sei Per sei Per sei Wooden planks Ed in large bag Abbiamo bisogno di Quattro large bag Ciò vuol dire Sei Per sei Per sei Per quattro Wooden planks Il che vuol dire Se dividiamo Per quattro Sei Per sei Per sei Blocchi di legno Che dovrebbe essere Tipo Centosedici Sì Centosedici pezzi di legno Più nove pezzi di legno Per fare gli stecchetti Quindi C'è Tipo tantissimo Infatti ci ho messo Parecchio La scorsa La scorsa volta Per raccogliere Tutto questo materiale Però naturalmente Era una cosa che non si poteva Fare a on camera Perché Cioè che sbatti Allora Noi iniziamo Trasformando Tutto questo Embaradan In Wooden planks E avremo tipo Mille mila Stack di Wooden planks Così vi farò Anche avere un'idea Generale Di Quanto Cavolo Sia lungo E Noioso Produrre Quattro Large Bag Che poi sono una cosa molto utile Perché cioè nel senso E qua abbiamo Quattro stack Perfetto Sono una cosa molto utile Perché ti risparmiano Un sacco di giri Nel senso Tipo quando si va A minare Soprattutto con queste mod Che ho io Ci sono tantissimi minerali Che si incontrano Di tipi diversi Come avete potuto vedere E Questo Fa sì che l'inventario Ti si riempia subito Perché magari Hai solo un pezzo di Hai solo un diamante Hai solo un Un diamante Della Della default Hai solo Un pezzo di uranio E balle varie Però alla fine C'hai tutto pieno Cioè c'hai tutto L'inventario pieno In più hai La solita fornaccia dietro Se devi cuocere qualcosa Il secchio Che serve sempre Il cibo Le torce L'accetta La pala I due picconi Perché un piccone Finisce subito Quindi poi dopo Devi usarne un altro Perché Cioè Se vuoi minare un pochettino Più di tempo Ti ci va un Un tot Insomma E quindi Ti si riempi subito L'inventario Avere invece Gli zaini Ti permette Di lasciare Della roba Nello zaino Della roba Anche magari Che ti serve Tipo il cibo Essendo qua Diverso da minecraft Dove appunto Devi Devi trovarti A che fare Con la fame Quindi Devi avere sempre Il cibo sotto mano Qua il cibo Ne hai bisogno giusto Se ti fai male Per recuperare Della vita E quindi Non è indispensabile Averlo sotto mano Nell'inventario rapido Puoi anche Averlo nello zaino Come anche l'accetta Non ti serve sempre Quando Ti serve Abbattere alberi Mentre la pale e il piccone Sono molto spesso utilizzati Anche la fornace Anche il secchio d'acqua Quindi Si possono spostare Delle cose In più Tutta la cobblestone Che accumuli Si può spostare Negli zaini E quindi Dobbiamo fare Quante small bag 6 per 6 Beh allora Innanzitutto facciamone 6 No Riempiamoci l'inventario Innanzitutto Poi No Meglio non Riempirci l'inventario Perché sennò Non ci sta più niente Vedete Tipo un casino assurdo Fare Queste Bag Non questi bug Nel senso Queste bag Allora Adesso devo rimettere qua Il legno Per fare le altre due E' proprio un casino Poi non sono staccabili Tra l'altro Quindi Un'altra bella rottura Forse avrei bisogno Di svuotarmi l'inventario In effetti Prima di Di fare questo bel lavorone Perché Mi richiederà un sacco di tempo E un sacco di spazio Nell'inventario Perché adesso Stiamo usando il legno E tra un po' Si riempirà tutto Di Di bag 1 2 3 4 5 6 Rimettiamo questi qua Facciamo le 6 bag qua E non abbiamo ancora fatto nessuna Large bag Insomma Siamo metà della prima large bag Vi rendete conto? Cioè è una cosa lunghissima Lunghissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim Non mi sembra possibile, eppure ce l'ho fatta, tutti e quattro gli zaini sono stati completati. Tra l'altro avevo fatto male i calcoli, per fortuna che avevo dell'altro legno indietro perché gli stecchetti avevo sbagliato, oh mannaggia, avevo sbagliato con fare i calcoli degli stecchetti e quindi mi era venuto sbagliato, nel senso che erano... Perché non va a dormire questo ragazzo? Boh, ha problemi di insonnia. Comunque erano almeno due blocchi di legno in più rispetto a quello che avevo tenuto da parte. Forse perché non è ancora tramontato tutto il sole, che non posso addormentarmi con successo, oh da qua si vede il... tra l'altro la torcia ha avuto effetto. Perfetto. Quindi allora andiamo a togliere la torcia, tanto l'erba c'è. E c'è anche dentro, sono molto contento di questo. Perché è molto più bello così con l'erba. Non trovate? Bello. Eh? Ah è già, boh. Che stranezze. Vabbè comunque, quindi adesso ho lo zaino sulle spalle e direi che vado subito a mettere nel primo zaino un po' di roba. Un po' meno utile diciamo, insomma. Così. Sì, dai. Così c'ho più spazio per tutto. Magari non li userò mai tutti i quattro zaino, però almeno li abbiamo fatti e ci siano tolti i problemi. Togliamo il cartello. Togliamo la cesta. Mettiamo via. E... Oh! Che sensazione di soddisfazione. Immensa! Detto questo, per questo episodio credo che sia tutto. Perché sono già quasi 20 minuti. Vi invito a mettere un mi piace. Perché sono importantissimi. Vi invito a mettere un commento. Perché sono altrettanto importanti. Vi invito a iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video. Ed è altrettanto importante iscriversi. E vi saluto. Ciao! Ciao! Ciao!